L'hanno chiamato Presidiamo col chiaro intento di svolgere un ruolo da sentinella per una delle aree naturali più suggestive del Salento ed è proprio la salvaguardia del Parco regionale e litorale di Uggento che si rivolge il progetto messo in campo dal GAL, il gruppo di azione locale di Santa Maria di Leuca. Questa dovrebbe essere anche non solo un'iniziativa del GAL soltanto di Santa Maria di Leuca, ma di tutti i GAL e anche del governo per l'occupazione giovanile che è il problema principale d'Italia secondo me. Inserito nel progetto di cooperazione interterritoriale Ideas che vede insieme Puglia e Basilicata, Presidiamo si articola in tre macroattività che riguarderanno incontri ai laboratori come quello dedicato ad esempio alla tintura e al colore o all'artigianato di qualità che si svolgeranno fino a metà settembre nell'area Parco. Tutelare la biodiversità in tutte le sue forme, sia quella naturale, quindi noi attueremo degli studi importanti sulla biodiversità del parco ma anche sulla biodiversità agricola e sul recupero delle antiche tradizioni. E questo lo faremo all'interno di tre masserie scelte all'interno del Parco Natale di Urgento cercando di valorizzare la comunità del cibo che sta nascendo grazie anche al contributo di Slow Food all'interno del parco e tutti i cibi identitari che in qualche modo sono il nostro DNA, la nostra impronta che portiamo avanti nel nostro territorio.